Ed eccomi a preparare insieme a voi riso e verze. Naturalmente per prepararlo servono delle verze. Io ne prenderei, come vedete, qui era uno molto grande, ne basta metà. Va tolta la verza, le foglie, vanno tolte le foglie più dure, quelle esterne, poi ridotta così a pezzettoni e lavata, mi raccomando, molto molto bene, accuratamente. Mezza verza abbastanza grande. Poi serve una costa o due di sedano, sempre pulito, e due cipolle che andranno tritate minuziosamente insieme al sedano. In chiusura una manciata di grana grattugiato, poi ci vogliono due dadi che sono già nel tegamino con dell'acqua, il mio brodo è pronto. E il condimento eccezionalmente sarà dell'olio. Io vi devo dire che questa ricetta in origine è nata col burro, però io ho provato a variarla con l'olio, viene benissimo, provate anche voi. E poi adesso vi devo parlare del riso che userò. Dunque, io devo veramente ringraziare la Riso Gallo, perché mi dà la possibilità, nelle prossime settimane a lungo, di parlarvi di tutta la linea dei suoi favolosi risi, di tutti i tipi. Seguitemi perché io sono entusiasta di questa cosa. Però questa sera ritorno a Blonde. Blonde, sapete, quello che non scuoce. Questa sera per questo risotto speciale adopero un riso speciale. Blonde integro. Perché? Perché si sposa benissimo con la terza. Perché è un riso naturale, stupendo, ricco di sali minerali, vitamine e di fibra. Blonde integro è particolarmente mirato sia alle persone che fanno sport ai ragazzi che anche alle persone che fanno vita sedentaria. Cuoce in 20 minuti e non scuoce. Allora ricordate anche Blonde integro. 300 grammi per il mio risotto di questa sera. Ecco, io penso che così la cipolla e il sedano siano stati triturati benissimo. Infatti questa è l'operazione che dobbiamo fare per prima. Sminuzziamo cipolla e sedano. Poi prendiamo una casseruola, vedete come la mia, e ci mettiamo il condimento che sarà l'olio, un pochino d'olio. E mettiamo subito a soffriggere la cipolla e il sedano. Quando saranno soffritti unirò la verza tagliata a pezzettoni e faccio stufare, unendo un pochino di brodo, che è qui al mio lato, faccio stufare tutto per una diecina di minuti a tegame coperto. Credo che a questo punto le verze con la cipolla e il resto sia, ecco vedete, dobbiamo ottenere una cosa molto morbida e quasi completamente sfaldata. A questo punto possiamo unire i 300 grammi di riso Blonde integro. Sapete che io mi regolo, e ho visto che anche non è una regola solo mia, ma è abbastanza generale, il mio pugno sono circa 50 grammi. Allora 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete i chicchi come sono ben scuri, appunto per quello che vi dicevo prima. Diamo una prima mescolata e poi cominciamo normalmente ad aggiungere brodo, mestolino alla volta, quando però il riso si sarà scaldato e già un pochino amalgamato con le verze e le altre verdure. Dunque questa, come vi ho detto, era la ricetta originale. Volendo potreste anche prepararla, tenendo, come facciamo di solito, le verze quasi crude. Allora le troverete un po' tostine quando poi servirete il vostro risotto. Adesso io unisco il brodo, poco alla volta, e porto a completa cottura per 20 minuti. Terminata la sua cottura, vedete, mantiene questo bellissimo colore così dorato. Lo togliamo dal calore della piastra o del gas, se a casa avete il gas, e obbligatoriamente questa volta, cosa che a volte vi dico di fare ma non mi vedete mai fare, incorporiamo il grana in modo da mantecarlo. Questa è proprio una regola per questo tipo di risotto quasi indispensabile. Allora una bella mescolata, serviamo naturalmente subito. Caldissimo va servito, è questo nostro riso e verze. La mia ideina di questa sera qui a Salepepe Fantasia, vi ricordo che ho usato il famosissimo Blonde Integro, che fa parte della vastissima linea dei risi di Riso Gallo, che ci dà appuntamento la prossima settimana con un riso tutto nuovo. Adesso vi lascio, non prima di avervi dato i miei soliti appuntamenti, vi aspetto domani a pranzo. Domani torna un caro amico mio e vostro, un personaggio particolare, genovesissimo. In questo momento poi è in radio, sta facendo Cristoforo Colombo sulla Rai 2, fa un programma che si chiama La Patata Bollente, e domani mi cucina, mi ha detto che mi prepara l'insalata della sopravvivenza. È Bruno Lauzzi, aspetto tutti voi insieme a Bruno, e domani sera naturalmente qui con una nuova ricetta tutta per voi. Cedo la linea a Carla e vi dico come sempre, grazie, grazie per l'attenzione, una buona serata. Uè, non perdetevi i programmi di Tele Monte Carlo che seguono il mio. Ci tengo molto, sono tutti uno più bello dell'altro. Adesso credo proprio di non aver più tempo, scappo, ciao!